su digiri amici sportivi e bentornati a chiedi al bardo l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling allora avete capito come funziona questa terza stagione sono in onda sono qui su youtube al lunedì al mercoledì e al venerdì alle 18 così i miei video hanno una durata massima di circa due giorni e potete sentirli con tranquillità oggi mi chiedete quali sono le tue gimmick preferite beh cosa sono le gimmick sono i personaggi recitati dagli atleti dai lottatori io credo di aver già risposto è in una delle precedenti serie ad un quesito simile ma come dicevano gli antichi ripetere giova e allora cosa vi devo dire a me piacciono i personaggi di chi non si fa problemi ad essere un po preso in giro a diventare un po ridicolo per beneficiare lo spettacolo il cattivone che arriva picchi a tutti o quello che è già fico e deve vincere sempre non hanno mai avuto una grande attrattiva su di me io amo i personaggi strani bizzarri che portano legna alla stufa del divertimento ok usiamo questa figura retorica ed è anche per tale motivo che in telecronica sovente li tratteggio nella speranza di dare loro una dimensione aggiuntiva di simpatia o di interesse addizionale c'è l'aias che canta perfetto io da bardo mi lascio trascinare c'è l'edan english che ha con lo stile quasi operistico ok perfetto c'è un personaggio non so tipo Dolph Ziggler che inizia a fare entrate ingressi strani ok bellissimo c'è James Ellsworth è il classico perdente che viene sottomesso da una donna dominante ok hai la mia stima la mia fiducia e salto sul tuo vagone queste sono le mie gaming preferite lo so non sono quelle mitiche non sono quelle che entrano negli annali di storia tipo l'Undertaker giusto per fare l'esempio forse del personaggio più riuscito della storia della wwe inteso proprio come gimmick però sono quelle che forse hanno maggiormente bisogno di un aiuto addizionale della mia voce o che si sposano un po al mio spirito guascone e gogliardico quindi quando si tratta di prendere delle decisioni io non guardo tanto alle presunte capacità o ai risultati io guardo al divertimento all'intrattenimento un personaggio che mi fa ghignare un personaggio che mi dà una nota di colore positivo in una giornata grigia e muta per me è sempre da promuovere anche se non vincerà mai una mazza e la sua bacheca resterà vuota oggi me la sono cavata rapidamente ma d'altronde la domanda non prevede ulteriori approfondimenti allora passo la palla a voi qua sotto nei commenti di taroventi fatemi sapere quali sono le vostre gimmick preferite il vostro personaggio è preferito cosa deve avere o che tipologia di personaggi vi piacciono quali talenti insomma devono mostrarvi per ottenere se non il vostro tifo almeno il vostro interesse forza aspetto le vostre opinioni opinioni